Simona Arletti, Assessore al Comune di Modena, per il decentramento affari generali politiche per la salute. Io ringrazio tutti dell'attenzione, chiederei davvero ai genitori di andare insieme con i loro bimbi a prendere una coppia della Costituzione. Abbiamo fatto insieme a Pino Di Gabù, e lo conoscete, fa tantissimi disegni per i ragazzi insieme ad alcuni volontari, una scelta, se volete, arbitraria. Abbiamo indicato in questa Costituzione per i ragazzi quelli che secondo noi sono i cardini della nostra Repubblica, comprensibili anche da parte di un bambino. Perché per noi è importante, invece diceva il Sindaco, quando vengono consegnate delle cittadinanze a persone che vengono da altri paesi che dopo dieci anni diventano nostri cittadini, a loro e loro figli è importante far capire che cosa siamo noi italiani. Lì c'è scritto che cosa siamo, in cosa crediamo, da dove veniamo e come si è conquistata la libertà e il rispetto per gli altri. Quindi la cosa che vi chiediamo in questo momento, che è importante celebrare, è sapere che se abbiamo una Repubblica e se abbiamo una serie di diritti, è importante continuare a mantenerli. Il primo, credo, diritto dovere dei cittadini è quello del voto. Il 6 e 7 giugno vi chiediamo di pensare, valutare quello che è stato fatto dagli amministratori locali e europei e far valere il vostro diritto di voto. È un diritto sicuramente, avete un diritto di scelta, ma anche un dovere di farlo. È importante che ci sia una grande partecipazione perché significa che i cittadini ci sono, vogliono giudicare, vogliono pensare e vogliono incidere sul futuro del loro paese. Quindi andate a votare come segno importante che crediamo ancora in questa Repubblica. Grazie. Grazie ancora a tutti voi per aver partecipato. Per rendere ancora più ufficiale questa festa chiedo alla banda di esibire il nostro inno nazionale. Buon pomeriggio a tutti. Nella prossima settimana questo palco sarà quotidianamente animato dal Circolo Florida. Quindi continuate a frequentare questo palco che se orientiamo di gente vedete che tutti i giorni è una grande festa. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.